Dall'alba di oggi i Carabinieri del Rosso e il reparto operativo speciale del comando di Vivo Valenzi hanno messo in atto l'operazione rinascita scotta arrestando 334 persone demolendo le organizzazioni di indrangheta del Bimonese operanti anche in altre regioni italiane e in paesi europei. L'operazione su vasta scala vede coinvolta anche la Liguria. Complessivamente sono 416 gli indagati accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia e intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose. I Carabinieri hanno anche sequestrato beni per un valore di 15 milioni di euro e colpito le ramificazioni malavitose oltre che in Calabria anche in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria a punto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. Diversi anche gli arresti eseguiti all'estero. Le indagini hanno consentito di documentare anche il summit di Indrangata e individuare il coinvolgimento nelle organizzazioni criminali di politici, avvocati, commercialisti, funzionari dello Stato e massoni. Tra gli arrestati eccellenti spicca quello dell'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, Giancarlo Pittelli.